Proseguono i furti all'interno degli istituti scolastici nella zona sud della provincia di Salerno. Purtroppo, dopo che i ladri hanno visitato gli istituti di Capaccio, Olevone e Battipaglia, questa volta sono entrati in azione nel plesso scolastico situato nella frazione di San Vito, Monte Corvino Pugliano, per rubare tablet, strumenti informatici e altro materiale utilizzato nei laboratori dagli studenti. Anche su questo furto indagano i carabinieri di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti di dito per individuare qualche traccia utile con l'obiettivo di risalire all'identità dei malviventi. Non si esclude che nelle prossime ore ci possa essere qualche fermo.